All'arbitra, signora Carlotta Vino, categoria 64 timi, all'angolo rosso, Cani, Davide, di Gocchio e Pugli, all'angolo blu, Fiorezza, Alessandro, di Boccio e Sincrato, primo round, di Gocchio e Sincrato, primo round, Pugli, all'angolo blu, Fiorezza, Alessandro, di Gocchio e Sincrato, primo round, Pugli, all'angolo blu, Fiorezza, Alessandro, di Gocchio e Sincrato, primo round, Pugli, all'angolo blu, Fiorezza, Alessandro, di Gocchio e Sincrato, primo round, Pugli, all'angolo blu, Fiorezza, Alessandro, di Gocchio e Sincrato, primo round, Pugli, all'angolo blu, Fiorezza, Alessandro, di Gocchio e Sincrato, primo round, Pugli, all'angolo blu, Fiorezza, Alessandro, di Gocchio e Sincrato, bravo Davide vai Davide vai Davide vai Davide bravo Davide bravo Davide bravo Davide bravo Davide Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.